Benvenuti alla seconda giornata del Summon International Film Festival. Seguire il festival in primis negli anni passati come spettatore, poi ritrovere gli spettatori e ritrovarci qui, è una bella sensazione. Mi ricordo questa frase che lui mi disse io ho fatto più di 125 film, ne saprò qualcosa. Io penso che un unicista, un natore, un pittore, un poeta debba semplicemente ascoltare se stesso. Quello che viene su come un rigurgito deve buttarlo fuori. Volevo che il pubblico fosse il protagonista. E ho visto di fronte a me una comunità che continua ad essere comunità grazie ad un luogo che è una sala cinematografica. Sintetizzare l'immagine di tutto il film, io gli dissi l'immagine del film è un abbraccio tra un padre e una figlia che non si conosco. Grazie ancora per essere stato dei nostri qui al SIF 2018.